In compagnia di Aldo Spinelli, in questo caso smesse le vesti solite e abituali, siamo in una serata particolare organizzata con chi porta il nome di Genova in tutto il mondo, per una persona speciale. Esatto, veramente l'Alessandra Carea, che è la ragazza, la segretaria di tutti gli ambasciatori nel mondo, è la prima volta che ci riuniamo per fare una serata in suo favore, perché lei fa tanto per noi, tiene collegamenti in tutto il mondo, tra di noi, e quindi era giusto, ha voluto presentarsi con il nostro grande sindaco Bucci, e quindi questa serata è un po' dedicata a lei e a tutti gli ambasciatori, perché è stata un'iniziativa più che altro per conoscerci un po', non solo col telefonino, ma anche personalmente, perché stasera credo che tutti quelli che sono a Genova verranno tutti, in onore dell'Alessandra Carea, che è la candidata per il sindaco. Più di 60 persone riunite, che vedremo tra poco, tanti nomi e tante le personalità che rendono veramente grande Genova in tutto il mondo. È una bella iniziativa proprio per conoscerci, c'è un po' di tutto, da artisti a... Ma io credo che la grande personalità per questa città è il nostro sindaco di Genova, perché guardi, mi creda, finalmente noi abbiamo un sindaco, un presidente del porto, che veramente vogliono cambiare questa città, vogliono migliorarla, e i 30 anni che noi abbiamo perso dal porto antico, che è stata l'ultima iniziativa del sindaco Burlando, perché i meriti vanno dati anche a quello che ha fatto 30 anni fa il nostro sindaco, e io credo che il sindaco Bucci veramente stia cambiando questa città e stia cambiando il porto, perché ci sarà sicuramente un porto che sarà uno dei primi, penso, in Europa, perché oggi è assurdo che noi facciamo 2 milioni e 700 mila teo, quasi 3 mila, possiamo arrivare a 6 milioni di teo con la diga Foren. Tutto questo grazie alla collaborazione tra il presidente Totti, il sindaco Bucci, che è il traino e il motore, il presidente Signorini, che è quello che dovrà prendersi poi tutte le responsabilità della diga Foren. Quindi poi bisogna che un giorno noi diamo il merito a questi tre, perché veramente se lo meritano. E allora la Genova del 2027, Aldo Spinelli, come se le immagina? O anche il Waterfront, che sarà un'iniziativa stupenda, come c'è a Londra, perché quando lei esce al tunnel di Londra era un porto, è diventata una città, come sarà il Waterfront, uguale. Quindi tutto questo naturalmente farà di Genova, oltre che il Porto Antico, un'altra zona veramente bella ed avvivibile con tutte quelle case disegnate da Renzo Piano, che saranno l'orgoglio della città di Genova. E farà tornare anche più spesso i genovesi ambasciatori nel mondo qui in città. Va bene, ma gli ambasciatori a Londra e in America fanno il loro dovere, ce ne sono anche in Russia, ce ne sono in Tunisia. Gli ambasciatori che il sindaco di Genova ha nominato per portare questo nome nel mondo, credo che tutti noi dobbiamo essere orgogliosi soprattutto di questo e ringraziare il sindaco che ci ha voluto come espressione da portare nel mondo, perché credo che noi tutti siamo orgogliosi di questa carica. Un orgoglio che si festeggia anche sotto l'assegno della bandiera di San Giorgio, grazie ad Aldo Spinaglia.